presentata questa mattina a palazzo san giacomo la tappa italiana del circuito europeo cadetti di fioretto maschile e femminile competizione internazionale di scherma che si terrà al palavesuvio di ponticelli dal 28 al 29 gennaio alle gare prenderanno parte quasi 400 schermidori di diverse nazionalità e di età non superiore a 17 anni solo in europa organizziamo questo tipo di evento riservato agli under 17 e vengono però da tutto il mondo abbiamo 31 paesi che partecipano a questa manifestazione l'evento non era preventivato la sede originale rinunciato e noi ci siamo ne abbiamo subito approfittato e ci auguriamo di mantenerla come evento stabile per tutti gli anni a venire siamo fieri di avere qui la tappa italiana del campionato europeo di cadetti di scherma e per questa occasione anche questo è il primo passo verso la nostra candidatura a napoli capitale europea dello sport 2026 ed infatti per questa occasione abbiamo aperto le porte del nostro palavesuvio per cui l'accesso sarà gratuito per assistere a questo spettacolo perché ecco l'intento è quello di far conoscere tutti gli sport ai nostri ragazzi napoletani e quindi per far appassionare tutti a tutti i tipi di sport in modo tale da poter arrivare poi al 2026 davvero a giocarci questa candidatura grazie a tutti i tipi di sport i tipi di sport i tipi di sport i tipi di sport i tipi di sport